Scatta anche per il comune di Omignano, dopo la nota del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'Asala di Salerno, lo stesso provvedimento che ha visto il sindaco di Stella Cilento, Massanova, firmare un'ordinanza che prevede interventi urgenti di profilassi e polizia veterinaria anche in zona di protezione del raggio di 3 km attorno al focolaio al fine di impedire il diffondersi della malattia contro l'influenza aviaria. Il provvedimento, firmato dal sindaco Raffaele Mondelli, ha disposto il sequestro di tutti i volatili nei locali in cui sono levati o in qualunque altro locale in cui possano essere isolati, la disinfezione a cuore dei proprietari, degli ingressi e delle uscite delle aziende, la vigilanza sui movimenti delle persone addette alla manipolazione dei volatili, delle carcasse dei volatili e delle uova, nonché dei veicoli adibiti al trasporto di volatili, di carcasse e di uova all'interno della zona. E ancora il divieto di trasporto di volatili su strade pubbliche e private, il divieto di uscita dei volatili e delle uova dalle aziende in cui si trovano e il divieto di spostamento di letame o lettiere. Le infezioni da influenza aviaria, suina e altre zoonosi nell'uomo possono causare malattie che vanno da una lieve infezione delle vie respiratorie superiori, febbre e tosse, a una rapida progressione fino a polmonite grave, sindrome di stress, respiratorio acuto, shock e persino la morte. Il virus comunque non passa facilmente dai volatili all'uomo, la trasmissione dai polli all'uomo richiede un contatto molto stretto. Le principali modalità di infezione sono il contatto diretto con un pollame infetto o con superfici e oggetti contaminati dalle feci del pollame.